Arte 24 Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula Certo non abbiamo la pretesa di essere stati molto chiari probabilmente chi non ha questi interessi specifici si è visto passare sulla testa il nostro discorso in altre parole la gente da chi è informata su questi problemi com'è che può entrare nel merito di questi problemi che a guardar bene non è che siano poi soltanto pittori ci riguardano l'uomo così nella sua totalità la scuola per esempio purtroppo penso che non siano informati da nessuno anzi l'unica informazione che ricevono è quella delle pagine dei rotocalchi che naturalmente possono divulgare più o meno interessatamente attraverso dei mercanti e dei galleristi l'uno o l'altra forma di linguaggio anzi neanche questo ma l'uno o l'altro artista insomma per interesse puramente di tipo consumistico in effetti ecco appunto la scuola è il grosso problema nel campo delle arti figurative diciamo che fin dalle elementari uno incomincia a studiare tamo piobove o comunque scrive un tema, scrive una poesia, legge le poesie invece nel campo delle arti visive già fin dalle elementari manca lo specialista che sappia dare una grammatica del dipingere, una grammatica del disegnare vorrei informarti che nelle elementari si dipingono le rondinelle il 21 marzo si attaccano nei vetri delle finestre cioè per quanto possono fare i maestri elementari chiaro che non possono avere la specializzazione sufficiente per iniziare un discorso anche sulla grammatica del vedere e del dipingere e anche qui occorrerebbe proprio tutta una ristrutturazione dell'istruzione artistica fin dall'elementare cioè l'istruzione artistica non dovrebbe essere un elemento separato dalle altre scuole dovrebbe entrare in tutte le scuole proprio fin dall'elementare secondo me e non soltanto secondo me, mi sembra che ci sia tutta una battaglia sindacale in corso per riformare tutta la scuola e a livello di scuola media superiore esiste sì il liceo artistico, l'istituto d'arte ecco qui ci sono gli specialisti, com'è che funziona? ma funziona abbastanza male perché è un liceo artistico è un elemento abbastanza superato e abbastanza in crisi cioè da un lato oggi noi riceviamo degli alunni direttamente dalla scuola dell'obbligo abbastanza tutto sommato, abbastanza con una preparazione abbastanza generica e dovremmo in teoria affrontare subito dei problemi tecnici specialistici cosa che non è possibile perché appunto non ci sono le basi e il liceo artistico oggi è in una situazione di ambiguità cioè non è più una scuola di specializzazione e non è ancora un liceo unificato come tutti gli altri licei cioè io sono del parere e in fondo dico anche le confederazioni sindacali della scuola sono di questo parere che dovrebbe sparire quasi come specializzazione il liceo artistico per trasformarsi in un liceo unico semmai con qualche materia opzionale in più per quelli che dopo vogliono arrivare ad una preparazione specifica, specialistica a livelli superiori nel campo dell'arte e dell'istruzione artistica sicché è sparito il liceo artistico quasi si dovrebbe rimandare l'istruzione artistica specialistica a livelli superiori, a livelli di università non tanto con la vecchia accademia che oggi appare assolutamente superata la stessa parola accademia esprime già un concetto di qualcosa che non ha più una vitalità e una funzione e semmai da questo liceo unico dovrebbe esserci una base, dovrebbe offrire una base culturale sufficiente per poi affrontare i problemi specialistici a livelli di università qualunque tipo di specializzazione ovviamente qualunque tipo di specializzazione ma anche questo cioè una facoltà di arti visivi che affronti veramente i problemi della visione della visione e del dipingere e tutto quanto a questo proposito proprio qui in Sardegna manca assolutamente qualunque tipo di istruzione superiore nel campo dell'istruzione artistica quindi finito questo liceo artistico che così per come è impostato non produce neppure più specializzazioni non produce oggi neanche più un professore di disegno perché il titolo non è più sufficiente veramente in Sardegna la crisi è veramente colossale in questo campo perché mentre prima se non altro ti dava un titolo di studio per cui un ragazzo poteva andare a insegnare disegno nelle scuole dico oggi si tende a portare tutti gli insegnamenti a livello universitario sicché occorrerà la laurea o comunque qualcosa di simile cioè un diploma di istituto superiore a livello universitario per chiunque voglia insegnare qualunque materia quindi oggi i ragazzi devono andarsene fuori quindi i nostri ragazzi devono andarsene fuori a Roma, Firenze, Milano eccetera perché qui in Sardegna non esiste un'accademia di belle arti d'altronde ci sono molte forze contrarie all'istituzione di un'accademia di belle arti in Sardegna proprio perché sono contratti all'istituzione di qualunque nuova accademia considerandolo un elemento superato però non ci sono neanche delle forze che lottino per la creazione di una facoltà di arti visive in Sardegna ecco questa facoltà al posto dell'accademia come si connoterebbe? voglio dire che differenze sostanziali avrebbe nei confronti di una vecchia accademia di un'accademia di vecchio tipo? io mi auguro che abbia delle differenze veramente sostanziali perché se cambiamo soltanto il nome alle cose non servirà a niente io ho partecipato una volta qualche anno fa ad un congresso in campo nazionale dove alla fine si proponeva soltanto di trasformare l'accademia in una facoltà di arti visiva cioè di cambiare praticamente i nomi alle accademie già esistenti invece non è questo il problema il problema è di inserire veramente una preparazione scientifica e tecnica tale da poter offrire veramente una preparazione capace di far affrontare i problemi dell'arte moderna cioè oggi per affrontare i problemi dell'arte moderna non basta più appunto avere quella manovalanza quella capacità così manuale più o meno istintiva più o meno intuitiva per fare il paesaggino o il ritratto oggi per affrontare i problemi dell'arte visiva bisogna avere una serie di conoscenze sulla psicologia della percezione su tutti i problemi della visione che sono problemi scientifici questo in un'accademia non avviene non esiste esistono delle materie così collaterali dei corsi nelle accademie migliori però fondamentalmente nell'accademia tradizionale esiste un settore di pittura, uno di scultura, uno di scenografia e basta dove ci sono dei maestri dove il pittore, sì, c'è la modella e il pittore è il maestro che ti insegna a dipingere la modella a secondo dei cani che sono la fine del mondo anzi, diciamo, non insegnando affatto ti mettono lì di fronte alla modella e l'assistente che legge il giornale tu dipingela meglio stai lì 4 anni a perdere tempo poi ti rilasciavano un diploma che non serviva neanche a niente mentre invece oggi il diploma di accademia fra l'altro è riconosciuto per l'insegnamento è indispensabile per l'insegnamento nei licei artistici, istituti d'arte per fare l'assistente in queste scuole e fra un po' sarà anche necessario per l'insegnamento nelle istituti magistrali licei scientifici e scuole medie che fra un po' la cosa ridicola è vederla così un po' terra a terra è questa che un'accademia dove ci sono le modelle insegna per la gente a insegnare senza però la modella perché se la porti in una scuola media per esempio magari il preside dice che non sta bene sta bene solo ai maggiorenni solo ai maggiorenni è permesso sì e allora cosa pensi che succederà qual è la posizione attuale delle forze politiche o così desiderata se vogliamo degli interessati dei più diritti interessati a partire dai ragazzi finendo con gli insegnanti che evidentemente anche loro si sentiranno dentro abiti molto stretti in un liceo artistico che non ha più funzione neppure come sbocco di lavoro mi sembra che ci sia molta confusione e di fatto non ci sono dei movimenti che stiano affrontando il problema seriamente insomma non so o per ragioni per costituite o per interessi vari perché non bisogna nasconderci che ci sono sotto molti interessi in gioco naturalmente insomma per un'infinita di ragioni che nulla hanno a che fare con la cultura il problema non si affronta ma gli interessi quali possono essere? no non ti sto chiedendo di far nomi cioè a chi interessa che un liceo artistico resti così come un luogo dove finirà con non iscriversi più nessuno perché se è vero come dici che non serve neppure a qualificare così con una prospettiva di lavoro ecco i ragazzi cosa ci vanno a fare per cominciare? infatti i ragazzi stanno stanno diminuendo da noi insomma gli interessi stanno diminuendo perché devono andare dopo proseguire gli studi fuori questo è un problema però nessuno fa niente e nulla si muove perché si costituisca e si istituisca in Sardegna non importa se è un'accademia o una facoltà di arti visiva ma comunque una scuola che ti dia il titolo superiore per l'insegnamento si continua a non capire che può avere cosa può avere di interesse una volta uno mi aveva raccontato una storiella di due coltivatori di carciofi uno dei quali propose all'altro dice beh facciamo una cosa andiamo un po' per uno una volta ciascuno a Milano a portare direttamente i carciofi così guadagniamo noi quello che guadagnerebbe l'intermediario e beh l'altro gli rispose dice perché devo farti guadagnare qualcosa hai capito il problema cioè nessuno si muove per paura che sia l'altro a guadagnarci magari nell'insegnamento magari nella quindi diciamo l'interesse del non interesse l'interesse del non interesse il sabotaggio una cosa folle una cosa veramente abbastanza disgustosa se pensiamo che ci sono lì ragazzi i quali ragazzi poi dopo tutte dico le esplosioni del 68 che si è protratta da noi fino al 70 71, 82 eccetera dico adesso sembrano veramente accietati in una dimensione così di accettazione di qualunque cosa veramente c'è stato un riflusso purtroppo in certe lotte in certi movimenti che fa pensare che stiamo andando verso il peggio anziché verso il meglio sì questo è vero vediamo un po' di lavarci la coscienza no? fino a che punto anche noi non siamo responsabili di queste cose cioè non ti sembra di individuare in un comportamento abbastanza acquiescente abbastanza ascientifico diciamo anche da parte nostra noi personalmente abbiamo fatto noi dico io e qualcun altro abbiamo fatto quello che era possibile cioè io faccio parte del consiglio d'istituto del liceo abbiamo fatto richiesta abbiamo votato una delibera del consiglio d'istituto dove dicevamo parlevamo della necessità di istituire sia una facoltà di architettura che un'accademia di belle arti o facoltà di arti visive che fosse in sardegna abbiamo mandato queste richieste alle regioni al comune il comune d'altronde ci ha ascoltato ed è partita dal comune una richiesta al ministero per istituire un'accademia di belle arti dopo di questo però non abbiamo saputo più niente cioè dopo di questo è chiaro che era necessario un movimento di base per aiutare la cosa ad andare avanti perché sappiamo benissimo che senza lotta non si ottiene non credi che sarà opportuno per esempio organizzare dei dibattiti su questo problema e soprattutto mettendo in rilievo le differenze che esisterebbero tra un'accademia e invece una facoltà universitaria così anche da perfugare un po' questo concetto di interesse che poi è anche sul versante negativo non avrebbe senso si intendiamoci quando io parlo noi parliamo di accademia ne parliamo momentaneamente perché ora le facoltà di arti visive non esistono ancora se no c'è qualcuna sperimentale a Bologna e credo soltanto a Bologna in qualche altro posto credo soltanto a Bologna perciò parliamo di accademia perché il problema è urgente però è chiaro che l'ideale sarebbe costituire una facoltà di arti visive a Cagliari cioè ricordiamoci che la Sardegna è l'unica regione italiana che non ha un'accademia di belle arti o un istituto superiore di belle arti ora stanno nascendo anche istituti superiori di arti grafiche in diversi posti vabbè questo è un discorso che ci porterebbe molto lontano penso che e bisognerebbe aprire un dibattito lo apriremo almeno qui da questi microfoni è una cosa che faremo sicuramente bene ormai siamo alla fine scherzavo all'inizio della trasmissione io ringrazio tutti quelli che hanno avuto la forza di resisterci do appuntamento a mercoledì prossimo alla stessa ora arrivederci abbiamo trasmesso arte 24 divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula a cura di